La provincia di Pescara chiama a raccolta i parlamentari abruzzesi eletti nella circoscrizione adriatica per studiare e pianificare una serie di iniziative da intraprendere per superare le emergenze causate dall'ultima ondata di maltempo che ha flagellato il pescarese con frane evacuazioni di abitazioni e desondazioni di fiumi e torrenti. È una esigenza che ho avvertito da quando mi sono insediato come presidente nel mese di ottobre assieme ai consiglieri provinciali, cioè quello di incontrare il livello parlamentare e pianificare con loro una serie di attenzioni particolari per la provincia di Pescara. Poi le avversità hanno accelerato ulteriormente le problematiche e oggi siamo qui con tutti loro per advenire un ragionamento sinergico. Noi vogliamo assolutamente affrontare le esigenze che ci sono in questo momento sul territorio della provincia. Devo fare i complimenti al presidente della provincia che è riuscito a portare quasi tutti i parlamentari, dico quasi tutti perché ce ne manca qualcuno, di tutte le parti politiche qui alla provincia. Speriamo che Roma, adesso diceva la somma che richiede 33 milioni di euro, penso che è una somma possibile, visto tutti i danni che c'è stato, ma non solo, io penso che è tutto l'Abruzzo che bisogna guardare, non solo alla provincia di Pescara ma a tutte le altre province perché la pioggia e tutto quello che è successo è un disastro. Il presidente della provincia ci ha convocati per esporci la situazione della viabilità gravemente danneggiata dal maltempo, la situazione dell'edilizia scolastica e anche la situazione degli equilibri di bilancio della provincia. Sono tre temi importanti che rientrano nel discorso generale che riguarda il futuro delle province. Noi abbiamo garantito che a livello nazionale ci impegneremo in maniera compatta per capire bene quali sono le funzioni che il governo vuole assegnare alle province e quali le conseguenti risorse. Rispondiamo all'appello del presidente ma soprattutto cercheremo di trovare le risorse necessarie, tenendo conto che non è un tema solo della provincia di Pescara o dell'Abruzzo ma è un tema di carattere nazionale e quindi va fatta una programmazione nazionale di previsione di risorse a favore delle province affinché la viabilità, che è una di quelle competenze che gli è stata lasciata in carico, possa essere affrontata in maniera efficace. Ovviamente noi ci aspettiamo dal governo, così come lo ha promesso, dei fondi strutturali in questo caso per risolvere alcune problematiche, almeno quelle più impellenti. Speriamo che tutti i parlamentari ma soprattutto quelli di maggioranza insistino con noi e insieme al presidente della provincia per far arrivare qui in Abruzzo e qui in provincia di Pescara questi fondi. Siamo in attesa, speriamo purtroppo per adesso la speranza è ancora stata vana. Siamo in attesa, speriamo.